Ma noi ci aspettiamo molto, sì, anche dal torneo, però più che altro in preparazione proprio per la stagione che verrà, per il campionato. Stiamo provando parecchi giocatori nuovi, stasera già ne abbiamo visti molti, qualcosa si comincia a amalgamare e andiamo avanti, insomma, non ci fermiamo assolutamente. Il progetto è sempre quello ovviamente del campionato, di fare un'ottima prestazione al campionato di A2. Poi ovviamente giochiamo tutte le partite, il torneo va onorato e vanno tutte le partite giocate per vinci. Ovviamente avendo da provare diversi giocatori avremo dei spostamenti, non avremo ancora la squadra amalgamata che potrà essere quella pronta per il campionato, però noi giochiamo sempre tutte le partite, anche le amichevoli. Lo spirito dei miei ragazzi deve essere sempre quello vincente, se no insegni calcio un po' quello da strada. Ok. Ok. Ok.